Un angolo di storia di natura recuperato e preservato per le generazioni future. Grazie alla disponibilità dei proprietari delle aree e a un contributo del Piano di Sviluppo Rurale della Lombardia e dell'Unione Europea, sono state ripristinate dal Parco delle Orobie e Valtellinesi le pozze Briotti in località D'Osso del Grillo, a mille metri di altezza, nel comune di Ponte in Valtellina. L'intervento di recupero ambientale, che ha richiesto un investimento di 100.000 euro, ha permesso di riqualificare lo stagno e di valorizzare la biodiversità dell'area attraverso le opere di bonifica e di ripristino. Ora si può passeggiare tutto attorno allo stagno e attraversarlo percorrendo un ponticello in legno con l'insegna del nome Lac de Famlong. La pozza di Abeverata, spiega il Presidente del Parco Doriano Codega, alimentata in maniera naturale dall'acqua piovana e al servizio della fauna locale, degli anfibi, dei rettili e anche degli ungulati che la sera la raggiungono. Grazie al finanziamento della Regione abbiamo realizzato un importante intervento molto apprezzato da chi frequenta la zona, che durante l'estate potrà essere scoperto dai turisti. Si tratta di un recupero ambientale con un interesse per la comunità locale, aggiunge il coordinatore del Parco Claudio Laragione, che già l'anno scorso, lavori non ancora completati, aveva attirato molte persone. Ringrazio il Parco delle Orobie per questo intervento, afferma il Sindaco di Ponte in Valtellina, Rino Vairetti, un perfetto esempio di recupero sia sul fronte della gestione delle acque, sia per la tutela della biodiversità. È stato realizzato in maniera ottimale per inserirsi nel contesto ambientale, sarà utile anche per le uscite didattiche di bambini e ragazzi. Per arrivare alle pozze Briotti si sale da Ponte in Valtellina verso Sazzo fino alla località addosso del Grillo, dove si può lasciare l'auto nel parcheggio. Il sentiero per raggiungere le pozze parte poco sotto dalla strada principale, dove è stato posizionato un cartello informativo.